Buongiorno dottor Grassetti da Ancona, oggi illustreremo come si massaggia la cicatrice perché molti pazienti hanno chiesto proprio come va fatto questo massaggio. Questo è un esempio di cicatrice a 4 mesi dall'intervento, se noi premiamo e rilasciamo il dito si schiarisce. Questo vuol dire che è ancora in fase attiva ed ha tutto il tempo di recuperare, pertanto il massaggio va effettuato prima in maniera circolare, premendo, un minuto per ogni centimetro di cicatrice e secondariamente possiamo massaggiarla anche in quest'altro senso, la prendiamo tra le dita e la stropicciamo. Avvertirete un po' di dolore, non vi preoccupate, è come quando, dico io, si va al mare sui sassi dopo un anno che non ci si è andati più. Inizialmente si sente dolore, ogni giorno si fa qualche metro in più e la pianta del piede si desensibilizza. La stessa cosa avviene con il dolore della cicatrice, quindi massaggeremo non solo tutta la cicatrice orizzontale ma ci concentreremo in maniera particolare anche attorno all'ombelico, che a volte dà anche più fastidio.